Arriva fino a ottobre la proposta di Confesercenti di posticipare i saldi invernali a febbraio 2024 per una serie di ragioni, in primis le condizioni climatiche. Infatti queste strane temperature estive che persistono durante il periodo autunnale hanno pesantemente condizionato in negativo il lancio della vendita dei capi invernali. Il prolungarsi della stagione estiva con il caldo che ormai siamo a fine ottobre si fa sentire sta provocando sicuramente delle difficoltà per quelle che sono le attività commerciali soprattutto nel settore dell'abbigliamento. E quindi quello che dovrebbe essere il periodo del cambio di stagione naturalmente non si riesce a fare e non porta che problemi ai commercianti. Diverse problematiche quindi che hanno costretto Confesercenti a prevenire un ulteriore danno scrivendo all'assessore regionale Alessandro Delinoci per chiedere di posticipare i tradizionali saldi del 6 gennaio almeno alla prima settimana di febbraio. Anche Confesercenti Lecce si associa a questa proposta che è venuta dall'associazione a livello regionale per uno spostamento dei saldi invernali proprio per consentire agli operatori economici e ai commercianti di poter sfruttare quello che è il periodo effettivamente di vendita che potrebbe portare a loro dei benefici. Naturalmente se a questo sommiamo anche le difficoltà e la concorrenza della grande distribuzione piuttosto che delle piattaforme online è logico che le difficoltà si moltiplicano e di conseguenza i commercianti continuano ad avere problemi e difficoltà.